Sono Pasquale Giannotti ed Erasmo Moulet, i primi volti nuovi del 2023 del Monopoli. Uno centrocampista, l'altro difensore, arrivano nell'ottica di ringiovanimento della Rosa, che potrebbe perdere anche 4-5 giocatori esperti messi in uscita. Giannotti, classe 1999, arriva dal Crotone, ma ha già giocato in Puglia, con la maglia della Virtus Francavilla nella stagione 2020-2021, quando ha collezionato 27 partite. 23 gettoni in Serie B l'anno scorso, 11 in Serie C per un totale di 306 minuti. Quest'anno, ironia della sorte, Giannotti potrebbe debuttare proprio contro il Crotone, squadra da cui proviene. Nella sua carriera ha anche qualche apparizione in panchina in Serie A e 44 presenze, con la maglia del Rende sempre nel girone C del campionato di Serie C. Arriva dal Catanzaro, invece, Erasmo Moulet, solo una presenza in 90 minuti quest'anno. Nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Cesena, Juve Stabia, Juventus Next Gen e Trapani. Una carriera ancora in rampa di lancio, Monopoli potrebbe rappresentare il punto di svolta.